Il 5 settembre mattina Papa Francesco ha incontrato nel Palazzo Apostolico Vaticano il Capo del Governo del Principato di Andorra, Antonio Marti Petit. Nel corso dei cordiali colloqui sono state rilevate le tradizionali buone relazioni tra la Santa Sede e il Principato di Andorra, consolidatesi nell'accordo ratificato il 12 dicembre 2008 che ha inteso sviluppare la reciproca collaborazione tra Chiesa Cattolica e Stato. Ci si è poi soffermati su alcune tematiche di comune interesse in ambito sociale. Grazie a tutti.